Teatro Leo Amici, omaggio all'universo femminile in Notte Gitana di Carlo Tedeschi, al debutto questa sera alle 21.30 a Monte Colombo. Parla le donne, lo spettacolo al debutto questa sera all'arena all'aperto sul lago di Monte Colombo. Ed è una rosa rossa che verrà donata a tutte le ospiti il fil rouge che lega all'estate 2023 Notte Gitana, lo show dal sound latino riallestito quest'anno con nuovi brani e sonorità del giovane musicista Emanuele Tedeschi. In scena oltre 40 artisti, tra loro Jessica Notaro, testimonial contro la violenza di genere. Cantanti, performer, musicisti, l'immancabile corpo di ballo per animare la stagione sulla riviera romagnola ogni mercoledì fino al 30 agosto. Notte Gitana rientra negli eventi promossi dalla Fondazione Leo Amici e dall'Associazione Dare, realtà che nel corso degli anni hanno messo a disposizione numerose borse di studio, corsi e stage gratuiti. Continua a promuovere esperienze teatrali per i giovani provenienti da tutta Italia in collaborazione con la Compagnia Ragazzi del Lago per un duplice percorso artistico e di condivisione e amicizia nel rispetto dei valori della convivenza civile.